Il derby è una partita a sé in tutto e per tutto, non conta la classifica, non conta niente, è una partita bella che ogni squadra vuole giocare al meglio. Poi per quanto riguarda noi, la fattispecie era importante due volte perché ci permette comunque di lavorare sempre con una serenità e soprattutto con la cozza e popolezza che al di là della classifica, i punti, i partiti vinte e perse, questo Forigno comunque gioca sempre contro qualsiasi squadra a testa alta, senza paura, mettendo fuori grande personalità nonostante la giovanità. Quindi penso che la soddisfazione è doppia anche per questo. Grazie a te. Arrivederci. Buon procedimento. Grazie. Buon viaggio.